Il punto zero sta implodendo, è fuori controllo, mettete in salvo! Se non lo fermo può distruggere l'intera esistenza! Hai ricevuto gli ordini, ora abbassene! Farò quello che avremmo dovuto fare dal principio, andrò dai sette! Hai fatto un giuramento, stai tradendo ciò per cui l'abbiamo lavorato! Mi servirà! Dai, vieni! Lui, l'ha preso! La polizia è tu, non andare dai sette! Josh, Josh, risposta! Alla polizia! Bananita! Oh, la vauglas fucker. Tai, tai. Oh, incredibile. Ha funzionato davvero. Senti, so che non hai motivo di fidarti di me, ma... Oh, no. Aspetta, parliamo! Geno! Posso portarti, Geno? E le sorelle? Posso portarti tutti, ma dovrai aiutarmi a riparare quel coso. Affare fatto. Per ora. Ho un motor assicurante. Mettiamoci al lavoro. È il nostro biglietto verso casa. Non farmene pentire. E fa preparare quel looper. Non abbiamo molto tempo. Looper? Di nuovo tu? Lascia stare. Datti una svegliata. Stiamo salvando la realtà. Cosa hai fatto al punto zero? Non è colpa mia. C'è stato... Un incidente! È tutto ingarbugliato! Non so se posso aggiustarlo. Non ci arrenderemo. Perché ha parlato di arrendersi? Aspetta! Quando il punto zero inizierà a crescere, non si potrà tornare indietro. Ci sono dei portali! Non va bene! Quelli non sono portali. La realtà sta andando in pezzi! Quindi... Li chiudiamo? Tu che dici? Ok, ci pensiamo noi! Sì! Spendo! Ora l'instabilità può solo peggiorare! Attenzione alle ondate di realtà! Roger! Staremo attenti! Le ondate di realtà possono tramutare tutto il... Sono una farfalla! Quella era grossa! Tutto bene, raggiù? Ora sono una farfalla, quindi... No! Direi che tocca a te. Sarai i miei occhi e orecchie. E braccia. E gambe. Dovrai chiudere quei portali. Ci riuscirai? Ah, certo che sì! Andiamo! Non ecco che sia un buon segno! Ma... È bellissimo! Ottimo lavoro! Ma mi servirà più tempo! Non fermarti! Ricevuto! Vedo altri tre portali, ma il prossimo è molto lontano! Se solo potessimo... Oh, 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 oh! Posso teletrasportarmi? Giù! Dobbiamo evitare i cacciatori! Eh... Come l'ho detto? Uno spiato! Ho passato la vita studiare punto zero. E questa è la prima volta. Dobbiamo essere più veloci! Non posso continuare per sempre! Resisti! Stiamo andando verso il terzo portale! Dei lupi sono una novità, eh? Wow! Le realtà alternative si fanno strada. Meglio se ci muoviamo. Oh, data! Pensa pensieri umani! Pensa pensieri umani! Pensa pensieri umani! Credo che la realtà ce l'abbia con me. È bellissima, ottidosa! Come va, lassù? Eh... Troppo! Dovete procedere! Ne manca uno solo! Resisti! Abbiamo compagnia! Ora potrebbe servire una di quelle ondate di realtà! Vabbè, è fatto! Quello è l'ultimo! Credo che ci siamo! Oh, che roba! Ok, il prossimo passo è fondamentale. Ehi, tutto bene lassù? Non basta! Non riesco a prepararlo! Ma forse posso contenere l'esplosione! Non esista! Non esista! Chiudetto dentro! Non devi farlo! Ce ne andremo solo quando avremo finito! Abisodio del nostro aiuto! Forza! Ehi, come va! Alla prossima! Sì, non avremo un'altra occasione! Dovete sigillare il punto zero e sovraccaricare il dispositivo! Sovraccaricarlo? Così resterò nel loop! Dovremo combattere per tornare indietro! Qualunque cosa succeda, non mollare! Ti troverò e mi dirai tutto! Ti do la mia parola! E... si... va! Non importa quanto siano isolati, c'è una forza primordiale che ci unisce... che ci spinge ad adattarci, ad andare avanti in cerca di avventura... a non arrenderci mai! Ad affrontare le nostre paure, quali che siano le conseguenze... a sfidare l'oscurità interiore... Quella forza antica chiede equilibrio! L'isola è diventata selvaggia... Devi farlo anche tu! Quella sorpresa.. Qu influential 150 anni che ha avascotovo un risenato Dossa Subito No vedi le nostre paure! Ero steve aut Landing Allerial ! quadratic alleen alo che confie